Abbiamo una affluenza grandissima di stranieri che arrivano appunto nella nostra scuola per avere le certificazioni della lingua italiana A1, A2, B1 e anche B2 e questi davvero sono veramente tanti e aumentano sempre di più. Però è meno conosciuta e diffusa quest'altra grande opportunità che hanno invece anche di ottenere il diploma di licenza media che peraltro comporta già anche la certificazione B1 dell'italiano. Perché è importante? È importante per un loro inserimento prima di tutto nella società ma comunque a livello anche lavorativo soprattutto e per un eventuale percorso di continuare eventualmente un percorso di studi. Si tratta di un'opportunità gratuita di 15 ore settimanali suddivise in 5 giorni al mattino, primo pomeriggio o prima serata. Gli interessati possono rivolgersi alla sede bustocca del centro provinciale per l'istruzione degli adulti in via Cavaliera Zimonti nel quartiere Beata Giuliana.